Le giustificazioni sono sempre le solite, però obiettivamente è vero perché si vedeva un po' anche la differenza di brillantezza tra loro e noi e oggi ci siamo visti in campo, ma la differenza a volte la fa anche l'episodio in cui noi siamo stati poco freddi sotto porta, abbiamo avuto diverse occasioni, l'abbiamo sfruttato ed è quello su cui sto lavorando specialmente nella testa dei ragazzi di avere maggiore determinazione e cattiveria. Poi abbiamo commesso qualche ingenuità, abbiamo regalato il primo gol che ha un pochino spianato, non dico la strada a Calpi ma ha facilitato un po' la partita con una squadra che si è messa lì in attesa come giusto che sia e noi abbiamo fatto fatica a entrare dentro. Contento del fatto che si ricercavano, Sansone esempio è un giocatore brevilino che però in questo periodo sta lavorando tanto, di solito i duelli uno contro uno è la sua qualità migliore, oggi ne ha vinti pochini, sta a significare che anche il ragazzo ha lavorato benissimo in questo periodo, stiamo mettendo benzina, non è niente di preoccupante però a me non piace perdere, ve lo dico in anticipo, nel senso non sono contento il fatto di aver perso il Carpio con qualche altra squadra 2-0 però bisogna accettarlo, loro sono stati oggi dal mio punto di vista un pochino più squadra di noi, un pochino meglio di gambe. Ci sta in questo momento che abbiamo caricato tanto di essere poco lucidi, abbiamo tentato di fare quello che prima è l'allenamento alcune volte ci andava bene, alcune volte no, però secondo me non c'è da preoccuparsi, anzi l'anno scorso abbiamo vinto tutto abbiamo vinto l'inizio del campionato come abbiamo visto, magari iniziamo bene con questa sconfitta del campionato. Sicuramente brutte figure non ne vogliamo fare neanche namichevole però al campionato ancora ci vuole un mese quindi i meccanismi e condizioni ancora devono migliorare. Il bilancio è bene perché abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati tanto, il mister infatti oggi ci ha dato un giorno libero a posto perché abbiamo lavorato benissimo, quindi sicuramente contento di quello che abbiamo fatto. Il risultato è che è figlio di due errori di disattenzione nostra ma non deve comunque farci cambiare quelle che sono le nostre idee anche se deve essere per noi un messaggio che ci deve far capire di dover giocare sempre convinti e sempre al massimo. Sicuramente la ricerca del gioco, anche se va fatto con una cattiveria maggiore sotto l'aspetto della compattezza nella fase difensiva ancora secondo me a livello di squadra dobbiamo migliorare. Comunque stiamo lavorando bene, stiamo lavorando con entusiasmo, è ancora presto perché non si può pretendere di star bene adesso e star bene adesso non servirebbe a niente e quindi dobbiamo continuare così.